Siamo partiti molto bene al primo set, ce la siamo giocata, peccato, non abbiamo sfruttato forse due o tre contraattacchi e quindi hanno avuto la meglio nel primo set, gli altri due abbiamo fatto quello che potevamo fare contro uno squadrone, una corazzata, ora facciamo quadrato perché le scuse adesso stanno a zero, gli alibi stanno a zero, finito le giornate dove eravamo sfavoriti, ora arriva Padova e dobbiamo iniziare a fare il risultato. La squadra ha comunque risultato di esserci, di creerci il gioco con ogni pallone, di essere a punta la responsabilità? Sì, noi facciamo sempre quello che possiamo fare del nostro meglio, uscendo dal campo con la maletta bagnata e con la testa alta, se l'avversario si dimostra superiore gli stringiamo la mano, ripeto però, adesso ci sono partite importanti dove dobbiamo dimostrare veramente l'attaccamento alla maglia e dobbiamo fare il risultato.